Turismo, cultura e rilancio dell'economia, di questo ha bisogno Bassano e in fretta per ripartire il prima possibile. Temi proposti dal Partito Democratico che chiede al prossimo governo del Veneto di raccoglierli e rilanciarli. Bassano ha bisogno di attenzione, di essere vista, di essere valorizzata, non soltanto per le sue potenzialità turistiche, ma per una viabilità che rischia di andare in crisi. Lo vediamo con la rotonda di Via Croceron che cosa ha significato in questi giorni. Stare vicino ai bisogni della gente e dei cittadini significa valorizzare l'ospedale e tutta l'area del sociale, chiamata a dare servizi al territorio e poi il tema del turismo sul quale non mancano le critiche all'attuale amministrazione della città. Non bastano le promesse, non bastano spot, serve un aiuto concreto a chi fa imprese nel settore turistico e a tutti coloro che rappresentano un indotto per questa realtà. Le potenzialità di Bassano sull'accoglienza ai turisti e sull'enogastronomia sono enormi. Bene fare il sistema attorno a un marchio d'area che va promosso per attirare visitatori, ma occorre stare vicino e sostenere chi fa turismo. Le risorse devono essere gestite bene, ma non possono essere gestite da Bassano, dall'amministrazione ad esempio solo per Bassano. Un marchio d'area ha senso nel momento in cui tiene insieme un territorio. Bassano deve essere polo attrattivo, deve ricordarsi della vocazione di essere grande Bassano e di essere leadership per tutto il territorio. In questo periodo ciò che manca di più al territorio è proprio il punto di riferimento dell'amministrazione bassanese. Spero davvero che si ricordino di essere il centro. I temi su cui stringersi a fare il sistema sono molti, dalle ceramiche di Nove al Ponte Vecchio, dai musei alla mobilità, con le piste ciclabili da completare. L'amministrazione di Bassano però deve tornare a pensare in grande.